Se sei a Angsha per divertirti, sono tutta tua. Lo sai, da un tetto attuena sotto il pangu si può ammirare un panorama incredibile sulla città. Sarà abbastanza. Eh, non è che questa volta puoi farmi un piccolo sconto? Mi spiace, ma considerato quello che mi chiedi, voglio tutti i miei crediti dal primo all'ultimo. Eh dai, dolcezza, questo mese riuscirò a malapena a pagare l'affitto. Benvenuto nel club, dolcezza. Accesso consentito. Se fossi in te, io non salirei. Perché no? Aspetta, non dirmi che May e Edgar stanno litigando di nuovo. Scusa? Sai che cosa significa? Sì, Edgar è di cattivo umore. Allora, hai trovato Ning? Sì, ora è al sicuro, ma deve scappare. Penso che voglia lasciare la città. È sempre stata una ragazza intelligente. Ne sono felice. La contatterò per essere certa che stia bene. Intanto ecco i tuoi soldi, come promesso. Se ne vuoi degli altri, avrei qualcos'altro da proporti. Pensi che ti possa interessare? Dipende dal... Ormai... Vuoi che uccida Chan? Sì, ma dovrà sembrare un incidente. O un suicidio. Cosa vuoi che facci? Hank Shabasa è un posto pericoloso. So che Diamond Chan vive in un appartamento vicino a un terrazzo. Fai... Lo farò. Jaze... Quindi... Ma... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se qualcuno oltrepassa questo perimetro, datevi l'alto lato. Se vi ignorate il fuoco. Non possiamo correre rischio. Devo parlare in inglese. A che... Oh... 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 Grazie a tutti.